Buonasera, siamo sopra gli alberi, oh my god, ciao, per la notte lo stai, mamma mia, c'è una distinta idea, voglio avere un punto anche con le vertigini, ma... Oh, 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 si? Tutto a posto? Bene, vai, ora tra un po' forza se ne accu'è? Si, ora se mi ce lascia su, non trovo. La notte lo stai, mamma mia, c'è una distinta idea. è bella questa com'è Gianini? bellissima bellissima ha detto ciao nona Rossana